A primo acchito sembrerebbe che le immagini di questo video siano state girate in una strada extraurbana o addirittura in autostrada. In realtà ci troviamo a Pachino, in una delle tante vie colpite da vento e polvere che creano quasi atmosfere da città africane. Scenario dello scontro tra una Volkswagen Golf ed una Renault Modus è l'intersezione tra via Cavour e via Vitaliano Arangio. Da una prima ricostruzione dei fatti la Volkswagen Golf con a bordo due giovani residenti a Pachino percorreva la via Cavour direzione piazza Vittorio Emanuele. La Renault Modus con a bordo tre donne residenti a Mister Bianco proveniva invece da via Vitaliano Arangio. Violento lo scontro tra i due mezzi che ha causato la totale distruzione della parte anteriore della macchina francese. Per la Golf invece rovinata tutta la zona della fiancata destra. Parafango, portiere e penomatici sono stati colpiti dal muso della Renault Modus arrecando incendi danni. Fortunatamente nessuno si è ferito nell'impatto ma la paura e il dispiacere per quanto accaduto non sono mancati. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale di Pachino. Gli agenti hanno dovuto effettuare i rilevamenti del caso per ricostruire gli eventi che hanno causato il sinistro. Da quanto capito pare che le colpe vengano addossate al proprietario della Volkswagen Golf perché non avrebbe dato la precedenza alla Renault Modus che proveniva dalla destra. Tra la folla in molti mormoravano l'assenza di una regolamentazione di alcune vie di Pachino. Sarebbe opportuno infatti rendere più sicura non solo via Cavour ma anche via Lincoln, Corso Nunzio Costa e via Garibaldi con un segnale di diritto di precedenza. Gli altri automobilisti provenienti dalle strade laterali, rese dall'abitudine pachinese meno importanti, sarebbero dotate di stop. Per dovere di cronaca sono solo tre le vie in città che godono del segnale di diritto di precedenza, ovvero via Messina, via Agrigento e via Mendola, tutte facenti parti della zona residenziale dei Tre Colli. Perché non estendere questa regola stradale anche in altre arterie di Pachino? Intanto l'estate calda si avvicina e i turisti sono sempre di più. Occhio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!